Benvenuti nella riserva provinciale dello stagno di Ulse. Il comune di Ulse vanta addirittura 6 SIC, 6 siti di interesse comunitario, quindi un comune molto ricco dal punto di vista naturalistico. Uno di questi SIC appunto è lo stagno dove ci troviamo, noto alla popolazione come Lago Borello. Il rapporto tra la cittadinanza e il lago è un ottimo rapporto, nel senso che questa riserva che oggi compie il suo compleanno è molto conosciuta e molto apprezzata dagli abitanti di Ulse e delle sue frazioni. Qualunque giorno dell'estate qui troverete sempre qualcuno che viene a passeggio, viene a vedere le libellule, a vedere i gamberi di fiume, a prendere semplicemente il sole, quindi è una delle rarissime aree di palude, di stagno ancora rimaste nei fondovalli delle Alpi, quindi è un'area di particolare pregio, ma soprattutto è un'area che è oggetto di un forte utilizzo.